mi puzzavano un po' alcune iscrizioni al mio canale a parte che vi ho smerdato ancora una volta mettendovi il video di Top Calcio dove in altri canali dicevano che qualcuno mi aveva smerdato mi aveva smerdato andoi, andoi un, contra quattro praticamente hanno confermato che i card non servono a niente uno, contra quattro tra l'altro ho anche risposto ho risposto in maniera pulita perché mi potrebbe anche essere collega una persona più grande non va non va assolutamente insultata è un'opinione personale di un calciatore che a noi non fa impazzire a noi tutti gli anti-cardiani quindi non me ne frega niente a me che a Mr. Cos lo piace i card lo piace mi ricordo una volta se ci vede Van Danara là ha chiamato Van Danara mi ricordo ha chiamato Top Calcio quindi diciamo che in famiglia ecco non si può non non si poteva tanto barcamenare uscire fuori dal seminato ha una diceva forza che i card è il più grande giocatore del mondo però però avete visto poi alla fine quando li fai li metti diciamo sul fatto compiuto come se ne fai però se fosse ma io non sto dicendo che può essere come Bobo Vieri quello là quello ne Bobo Vieri ne Ibrahimovic ne Ronald non ha vinto niente Bobo Vieri ha vinto Supercoppa Coppa delle Coppe da protagonista che è la Lazio devi la vedere Coppa Italia che l'intera ha vinto pure la Coppa Italia che l'intera ha vinto Bobo Vieri quando dici che non ha vinto niente che l'intera Ronald ha vinto la Coppa UEFA che l'intera la Coppa di Coppa con Barcellà ha vinto l'altro tu cazzo dove fai in Orlando io come in Olanda prima il PSV Ronald è andato il pianeta ha vinto la Lega ha vinto il mondiale il 2002 da protagonista dopo l'infortunio dopo l'infortunio perché se i card si dovessero infortuni no quello con quello fisico che è te lo zio di chi là si ritira la carriera è finito e paragoni i card a Ronald i minuti ti ritira ma che cazzo ti fai i card vatti mi ha fatto molto piacere vi ho dimostrato che in quei canali che hanno i video contro scrivono tutto strunzito smerdato smerdato nessuno ha smerdito nessuno ha smerdito io sono la melanza di tutto e ho visto anche di Spaghettia che hai fatto mille arbitraggio oh chi faceva mille arbitraggio e ti mettono una divisa qualche cosa di pallone sicura capì perché sennò non ti faranno mai mettere la divisa non te la farebbero mai mettere la divisa d'arbitro capito incompetenti se sai arbitrare e ti metti la divisa vuol dire che un presidente di regionale ti designa mette nome e cognome tu ma andiamo a donato inglese arbitrare e quindi donato inglese pure che la serie non c'è ruota qualche cosa capì puoi inserire come si arriva lo sapete anche voi lo sapete sia nel mondo calcistico che nel mondo arbitraggio ma chi ha metto a parlare ma chi ha a fare tutti i kart che tengo i kart perché sei in mezzo a parlare poi succede malamente quindi limitatevi a scrivere le vostre puttanate in quei quattro canali di merda non andate a toccare carriere di persone che si sono smazzate 15 anni e voi nella vostra vita non avete fatto un cazzo per ora fate solo gli youtube ebbè il passato per voi è solo nulla non valete nulla quello dice la storia voi non avete mai fatto un cazzo anche la parrocchia dovevi fare l'allenatore il giocatore l'arbitro della parrocchia vallo a fare vallo a fare se lo sai fare se come tu non puoi fare manca nella parrocchia testa testa zitto più chiusa ma non apri ma non apri non apri sei youtuber ma che dice che vuoi parlare avevo fatto un video perché mi pareva che uno youtuber si è iscritto al mio canale per simpatia ma a quanto pare a quanto pare ormai c'è il malvezzo di fare video per un giocatore per un giocatore di merda io tra l'altro di merda ve l'ho detto sia come uomo comunicatore secondo me in ZRC ce ne stanno amici ce ne stanno cioè fanno il malvezzo di fare e buttare sempre la frecciatina a questo youtuber qua che sarei io ora mi tutta l'Italia ha capito ora mi ha fatto un altro video per copyright o demand che ha messo la miniatura mia ha detto la miniatura è mia violazione di copyright se stai vedendo il video coglione la prossima volta almeno ci chiedono a mettere la miniatura quindi sei pure cretino mi hai dato adito a fare il reclamo e a vincere perché sei scemo così e parliamo sempre di Icard e parliamo ma la vita vostra è solamente Icard in te ma perché non pensate a fregarvi vogliono andate a scopare andate a scopare andate a scopare sentite a me qui pensate Icard Icard in te non vedece non cazzo e non che faccio dimmi brogna 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 pinzo Milano che stia a meno 17 punti pinze Icard ha fatto il gol fuori e l'ha fatto per un Portenone a fare Cagliari Portenone 1-2 brogna brogna che significa che brogna brogna che significa che un Portenone ha vinto con Icard e poi quelli Icard ha fatto i gol con Icard ha segnato per un Portenone il Portenone ha spugnato il sandalì o cagliari avevo questo completo brogna sveglia sveglia brogna che cazzo ti fai a fare i video contro i cagli ma che fin ti neanche argomenti che hai parlato di Icard e ti ha pure il coraggio di metter fuori i cagli e non ti metti a farcò ma pinzo Milano che stia a merda brogna brogna sveglia 200.000 iscritti 20.000 iscritti non ti neanche argomenti parla di Icard e parla brogna brogna parli di Icard con 200.000 iscritti fai 20.000 iscritti e non ti vergogno non ti vergogno brogna io mi metterei solo a buttare frecciate agli altri uno deve avere la propria deve essere la propria personalità la deve portare a termine per tutta la vita se andate come le capre e come le pecore apprezzano la mano non varrete mai un cazzo nella vita come cazzo ve lo devo dire le palle non ce le avevo perché io per dare un ricordo al 96esimo contro la scuola di Cato tengo le palle e me lo sbatto dalla gerga ma credo che su YouTube perché in passato a 20 anni già avevo le palle adesso a 40 anni li piscio in faccia a questi quattro merdoni che hanno ventato ma se ho vinto la vita vostra l'avete fatta lì poi non so come va che cazzo dappertutto non sapete come va la vita sfugata sentite un culo sentite perché vi chiedi in televisione e voi non ciò e voi non ciò e voglio scrivere invidia vi deve mangiare il fè brogna vi sentite i video sopra i cazzo fanno anche spusatele perché non ti prendi un milano prendite i cazzo prenditelo prenditelo i cazzo pre 2 milano da quello milano devi portare pure per i sicc'è che andrebbe però perché i card senza quei novassi 15 gol e le 5 regole facciamo i miei fatti perché non vi vedete ha detto donato inglese però senza gli assisti brogna brogna sono 10 mila iscritti brogna perché non vi vedete per i sicc'è che andrebbe sono la fortuna di cazzo fai stu vedete qua nessuno ha il coraggio di far brogna brogna 200 mila iscritti parli sempre di cazzo ed è lì ma non si può andare attacca brogna brogna cosa vuoi fare brogna vado il cuore che mi sei proprio scaduto se non c'era il posto ho il posto con le frecciate ti sento qualche cosa invece sei tu come il culato coglione la che vi fa lì siete tutti uguali tutti uguali tutti uguali sì non avete le palle di fare una cazzo un cazzo di video personale sempre a buttare le frecciate agli A sempre a parlare degli A sempre a parlare di que perché i vostri canali sono finiti finiti brogna brogna svegliati 200.000 svegliati svegliati brogna grazie a tutti